Sì, sei vittimato dopo 100, per informazioni 4266-98-8244. Iniziamo appuntamente domani sera per la stessa ora, a elezioni con il partenco, arrivate con più vento che continuano a piovere durante la notte e intanto a noi finiamo appuntamente domani, tutta la fine di ora in più di santità, vi accampo alla musica, Gigi e D'Alessio, vi mandiamo il piccolo sasciato a tutti i nomi che fanno passare, da tutta la fotografia qui a domani. Gigi e D'Alessio Gigi e D'Alessio